carissimi pogono automaniaci buonasera a tutti continuo con questa piccola rubrica quattro chiacchiere perché mi stavo domandando guardando i video riguardando anche alcuni video il perché la rasatura tradizionale piace piace così tanto e non avviene la stessa cosa con diciamo i sistemi di rasatura moderni quindi multi lama bombolette via dicendo e mi sono detto o quantomeno mi sono chiesto se non fosse qualcosa di trascendentale che vada oltre un video un video un po particolare questo spesso mi sono interessato ad argomenti tipo la meditazione soprattutto e cosa si evince spesso che a livello mentale esistono principalmente due condizioni una condizione che è la concentrazione dove il flusso di pensieri viene indirizzato ammesso che ci si riesca verso un obiettivo ma la mente come diceva osho è una scimmia che salta da un ramo all'altro di un albero e difficilmente si riesce a mantenere questo status di concentrazione per molto tempo l'altro status mentale è la meditazione la meditazione non c'è modo di definirla perché qualunque definizione porterebbe a un concetto mentale è qualcosa che va oltre e non c'è quantomeno modo di far sì che si possa aggiungere con sforzo allo stato meditativo come dicevano i grandi maestri la meditazione accade è qualcosa che va al di là della mente ora affrontare questo discorso quantomeno affiancare questo discorso al concetto di rasatura può sembrare qualcosa di esagerato di esoterico però alla fine trarremo le conclusioni e vedremo se poi così qualcosa qualcosa di così distante e la meditazione qualcosa che accade qualcosa che va al di là della mente e non lo puoi ricercare cosa cosa accade durante la rasatura magari le prime volte si passa attraverso quella che è la concentrazione quindi l'insaponatura il pennello l'angolo del rasoio la paura del taglio sono tutte cose che occupano in un certo qual modo la mente e magari diventa anche qualcosa di faticoso difficile qualcuno molla qualcuno lascia perdere ritorna ai vecchi sistemi ma una volta che si è imparata l'arte la cosa particolare che accade e pensiamoci un attimo facciamo un salto oltre immaginate che vi siete fatti la barba alla fine pensate un attimo a cosa è accaduto durante la rasatura si avete compiuto dei gesti che probabilmente sono diventi avete abbiamo compiuto dei gesti che probabilmente sono diventati degli automatismi e cosa avete pensato durante la rasatura difficile niente probabilmente c'è questo questo vuoto questo stacco e questo stacco è è meditazione anche quando si guarda il video di qualcuno che fa la barba è qualcosa di particolare come gestualità la rasatura ci si immedesima nella persona che si sta radendo nel video e non c'è mente e non c'è pensiero nel momento in cui affiora il pensiero è perché abbiamo smesso di guardare il video non siamo più in sintonia e la cosa particolare è che questo stato delle cose lo provo sulla mia pelle a seconda del tipo di rasatura che faccio nel senso nel momento in cui propongo rasature ai fini di un video sono concentrato su quello che faccio su quello che dico e credetemi non è la stessa cosa assolutamente non è la stessa cosa rispetto alla rasatura privata cioè quando mi faccio la barba per i fatti miei è totalmente un'altra dimensione non è la stessa cosa quindi c'è questo aspetto trascendentale quasi esoterico che si nasconde dietro questo rito questo rito della rasatura ecco perché probabilmente attira così tanto non è evidentemente il rasoio in sé la lametta il pennello il sapone magari tutta la gestualità ma è proprio lo stato mentale a cui ci porta la rasatura dicevo perché non è probabilmente il rasoio la lametta perché la stessa cosa accade o mi accade ad esempio quando mi affianco alla musica quando quando suono c'è questo questo stato della mente dove ci sei tu tu il tu non esiste non c'è più il tu in quel momento in quel momento c'è il suono c'è lo strumento c'è l'esecuzione però il tu scompare il soggetto scompare stessa cosa la percepisco durante la rasatura nel momento in cui la rasatura diventa privata non devo gestire video non devo gestire parole ma c'è silenzio gestualità si arriva si arriva a questo qualcosa che probabilmente va un pochino oltre è una cosa molto bella perché ribadisco molti hanno parlato di meditazione molti grandi uomini e quasi tutti convergono a livello di di opinione nel dire che la meditazione non si può fare si può fare la concentrazione ma la meditazione è qualcosa che accade e durante la rasatura a parer mio ciò che accade è proprio uno stato meditativo niente questa è un'altra puntata della rubrica quattro chiacchiere pensateci un pochino sopra e fatemi sapere ciao ragazzi una buona serata a tutti